Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo la lama Ultra High Carbon di Rosselli, in questo che è una mia rivisitazione del Grandfather. E siamo venuti in questo bosco appunto per testare le capacità di questa lama UHC Ultra High Carbon. Andiamo a vedere. Aspetta, 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 prima di andare avanti, capiamo di cosa stiamo parlando, di che tipo di lama, di come è stata creata e chi è Rosselli. Eimo Rosselli, perché si chiama Eimo, nasce e cresce nella Finlandia rurale, in una fattoria dove si è giocoforza obbligati a costruirsi tutto, quindi deve saper fare di falegnameria, deve saper fare di metallurgia. E qua inizia la passione di volersi costruire i coltelli da sé, perché trova che i coltelli acquistati non funzionino così bene, forse perché anche era capitato in qualche coltello non ben costruito. Inoltre poi, oltre a gestire la fattoria con i genitori, con i familiari, si dedicava alla caccia e alla pesca, come tutti all'epoca nella Finlandia rurale. E quindi il coltello era un attrezzo, uno strumento di primo utilizzo. E' sicuramente uno dei più importanti strumenti che lui potesse utilizzare tutti i giorni. Decise, come abbiamo detto, quindi di costruire lui, di iniziare a interessarsi a costruire i propri coltelli. Divenne così bravo che cominciò a costruirli anche per altri. Quello che poi gli interessava è trovare il giusto equilibrio tra durezza, quindi mantenimento del filo, ed elasticità. E quindi si dedicò anche a studiare un po' la metallurgia e a sperimentare vari tipi di acciai. Nel 1975 Rosselli fondò la propria azienda e cominciò a costruire a livello semi-industriale, quindi non più semplicemente artigianale, coltelli per tutti. Uno dei suoi acciai di arrivo fu il V75, un acciaio ad alto contenuto di carbonio, quindi non inox, quindi come noi li chiamiamo in gergo errato se vogliamo, ma tra appassionati carboniosi, quindi delle lame ad alto contenuto di carbonio, circa lo 0,75% di carbonio. E qua ottenne già un buon compromesso tra flessibilità e durezza. Nanno avanti, negli anni Ottanta, cominciò a sostituire la forgiatura a martello con quella pressa idraulica. Cioè la lama, una volta data una bozza di forma, viene stampata, proprio viene inserita, in una pressa idraulica che ha già una forma predefinita di lama e viene pressata e quindi stampata con un unico colpo. Quindi non c'è più bisogno di martellarla continuamente per aggiungere la forma desiderata. Questo ovviamente ha fatto mantenere l'artigianalità della lavorazione, ma anche la velocità di costruzione che la rendeva più una semi-industriale e non più una artigianale pura. Nel senso che riesce a produrre ovviamente molti più pezzi di prima. Detto questo, ovviamente non si fermò lì. Rosselli era sempre ossessionato dalla ricerca di un acciaio ancora più speciale. Senonché nell'anno 1985 venne a conoscenza di uno studio dell'Università di Stanford. Se la procurò e la lesse. E in questo studio si parlava di un antico acciaio persiano. Si pensa grossomodo tra il primo e il secondo secolo avanti Cristo. Questo acciaio, detto Wutz, era un acciaio damascato che conteneva determinate caratteristiche. Addirittura diventate in alcuni referti storici, in alcuni scritti storici, delle lame quasi magiche da tanto che avevano caratteristiche di flessibilità e di tenuta del filo. Quindi diventò avido e cominciò a studiare gli acciai di quell'epoca. Pareva addirittura che alcune di queste, si vociferava nelle leggende, che alcune di queste super spade persiane o provenienti comunque dall'Oriente venivano utilizzate come cintura da tanto che erano flessibili. però erano anche dure e il filo durava veramente parecchio. Si parla di tot nemici affrontati, tot nemici uccisi, prima che la spada perdesse un po' di filo. E quindi questo lo invogliò a sperimentare e continuare a studiare questo tipo di acciai. finché creò quello che adesso chiamiamo UHC Woods, cioè un acciaio che non è un damasco, ma che ha più o meno le caratteristiche che lui si aspettava. Circa nel 2000 si accordò con le acciaie Carcura e iniziò a costruire l'attuale UHC, un acciaio fatto da ferro e carbonio senza null'altro che ha una quantità di carbonio pari all'1,8%. Questo permette di dare delle caratteristiche particolari a questo acciaio, talmente particolari che Rosselli ritiene che con la tecnologia moderna delle acciaierie Carcura e con gli ingredienti antichi si è riusciti addirittura a superare quel tipo di acciaio che loro utilizzavano per fare queste spade e queste armi speciali. Sembra che sia arrivato a una durezza addirittura di 68 HRC. Comunque la lama di cui noi parliamo oggi viene venduta con un HRC di 66, comunque una durezza molto elevata. Ciò nonostante questo tipo di acciaio mantiene anche quella fissibilità che soprattutto nei freddi territori nordici serve a una lama perché non si spezzi nell'uso a causa del gelo. Rosselli ci tiene a far vedere che queste lame hanno questa grande resistenza tagliando come dimostrazione alcune barrette di ferro facendo vedere che poi comunque il filo resiste a questo intaglio. Fa vedere anche come si riesce a raggiungere una filatura tale da non tagliare la carta ma pelarla finemente. Così è nato praticamente l'UHC della Rosselli. Volevo farvi vedere la lama ma il video sta diventando molto lungo quindi per oggi terminiamo il nostro video qui e il resto della puntata sarà in una seconda parte quindi fra quasi subito dopo la pubblicazione di questo video pubblicherò anche la seconda parte del video dove vedremo la lama che ho acquistato, la sua manicazione e testeremo questo acciaio UHC ultra high carbon UTS come si comporta, come funziona se è così performante come si dice. Mi raccomando iscriviti al canale aiutatemi a crescere dobbiamo arrivare ai 10.000 iscritti per potervi fornire alcuni tipi di contenuti che purtroppo YouTube ha deciso di dare solo chi ha almeno 10.000 iscritti quindi iscrivetevi, è gratis mettete un bel like, condividete il video ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti da Armando ciao